Signori, siamo qui ancora su RaiSport, che è sto brutto? Che è sto barbone? Ok, siamo... la partita non è ancora iniziata, stiamo aspettando che i giocatori escano e vediamo qui Se volete vedere questa partita andate su RaiSport 1 Che vediamo qui, i giocatori della Juve Stabia e quelli della Fiorentina I tifosissimi, che vengono da tutte le parti Gli Aice ci hanno detto che si è fatto male e per 20 giorni non potrà giocare All'inizio della partita perché sarebbe troppo brutto E' l'Amdawi, non è l'Amdadawi Gonzalo Roncaglia Gonzalo Rodriguez magari Ok, vediamo qui Che brutto, ma chi è questo? E questo è il momento più bello di tutta la partita La bambina no Quando passano a darsi la mano Veramente è una cosa molto bella Però non capisco perché non la danno mai alla bambina Bene, sì, ciao, complimenti, bella partita Buon Natale, buona Pasqua, buona estate Amazon Natale Va bene Vediamo qui Questa live streaming Si farà fino a Ricorda sempre Tra le sue tante reti Se tante reti segnate in carriera Ricordo però che questo è mercoledì Sera Chiesto Curva Sud Juve Stabia, mamma mia se ho tratto Su Rai Sport 1 C'è Fiorentina e Juve Stabia E i due video che ho fatto prima Sono sempre di questo mercoledì Però la partita è finita E qua la partita di Siena Torino è finita Mentre questa deve ancora cominciare Sto facendo la foto Oddio Ok, la partita sta per cominciare Chiede agli arbitri se sono pronti Adesso chiederà l'ok ai portieri Ha detto ok, andiamo Si comincia Ciao ragazzi Se volete vederla sempre su Rai Sport 1 Arrivederci e grazie Ciao